. Una vita, anticipazioni spagnole, un legame spezzato . . Anticipazioni una vita, puntate spagnole, triste epilogo per Elvira. Un nuovo amore tormentato colorerà presto le trame di una vita. Le anticipazioni spagnole della sop svelano che il pubblico di Canale 5 saluterà presto Mauro e Teresa. . Il posto dei due beniamini della telenovela se verrà presto preso da Elvira Valverde, una ragazza proveniente da una giata famiglia che arriverà ad Acacias 38 insieme al padre Arturo, e Simon, figlio segreto di Susanna. . 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